Trattamento detossinante e riducente. Ne parliamo con un gruppo di esperti in estetica perché sempre di più la nostra vita è frenetica, a volte non riusciamo nemmeno a vederci bene quando ci alziamo al mattino, quindi tutto questo perché abbiamo bisogno anche di rilassarci. Allora chiediamo un po' a Cinzia De Lorenzo dell'estetica integrata di Arezzo che cosa vuol dire detossinare e ridurre in un trattamento? Allora sempre più oggi infatti come dicevi siamo portati ad uno stile di vita molto sbagliato in tante cose, tanti errori dall'alimentazione, il fumo, lo stress, tanti fattori che ci portano proprio ad intossicare i nostri tessuti, il corpo. E infatti proprio per questo noi siamo alla ricerca, siamo state un gruppo proprio... Sì perché poi siete un gruppo che ognuno ha il suo centro di estetica che però cercate di puntare al benessere con i trattamenti della persona. Il benessere proprio della persona, quindi abbiamo trovato questo trattamento che va proprio a detossinare i tessuti da queste infiltrazioni, questo eccesso di tossine provocate da tutti questi fattori e proprio per il benessere della persona. E perché non anche a ridurre volendo perché a volte succede anche quello no? E infatti è un trattamento fortemente riducente e questo trattamento infatti ci porta oltre ad un benessere di riduzione in centimetri, all'eliminazione delle tossine dal corpo, quindi ad un benessere fisico, mentale, perché quando stiamo bene anche con il corpo stiamo bene anche con noi stesse poi alla fine. Vale più di mille cose insomma uno sentirsi bene con se stesso. Infatti questo è un trattamento di benessere proprio anche perché quello che ne trae poi beneficio sono anche proprio la pelle, i tessuti, la vitalità che le persone... Quindi anche riprende più energia. Sì, la vitalità che proprio le persone avvertono dopo aver effettuato questo trattamento. Allora, vorrei anche capire un po' la Tiziana Zizi di Ecozone di Arezzo, questo trattamento ha un suo rito no? Perché mi dici un po' come funziona? Allora funziona così, naturalmente prepariamo una scheda insieme al nostro cliente chiedendo varie informazioni di salute, di stile di vita, di medicinali. Quindi infatti tipo un'anamnesi no? Un'anamnesi, esatto, esatto, sì. Dopodiché in base all'età buttiamo giù un protocollo di lavoro perché vengono assegnate queste sedute una ogni dieci anni di età. Quindi se la nostra cliente ha quarant'anni dovrà fare i quattro sedute. Ma anche gli uomini possono tranquillamente? Certamente, certamente. Perché vogliono dire che gli uomini hanno imparato a vericurare il proprio corpo? Certo, sia uomini che donne lo possono fare. Quindi diciamo che fate una bella chiacchierata oserei dire? Sì, una bella chiacchierata, sì, sì, una cosa molto informale però ci riesce da questa chiacchierata ad avere maggiori informazioni sulla nostra cliente o il nostro cliente perché ripeto possono farlo anche gli uomini. Quindi un'anamnesi totale e poi insomma stabilire l'età, quindi diciamo se uno ha quarant'anni? Se uno ha quarant'anni farà senz'altro quattro sedute e se il nostro cliente ha dalla nostra chiacchierata riscontriamo che ha uno stile di vita un po' stressato, un'alimentazione un po' sbagliata, fra virgolette, possono essere anche cinque sedute. Questo però è da valutare al momento. Ecco, è quello, è da stabilire in sede di colloquio. Sì, è da stabilire, dipende dalla nostra chiacchierata. Elisabetta Bruni, carissima, è un benvenuto anche a te, dell'estetica vera di Camucia, quindi insomma di Arezzo adesso passiamo a Camucia, no? Allora, se io dovesse ho capito, però ecco, come avviene esattamente? Perché già qui nei monitor un po' vediamo che viene modellato addosso delle bende, no? Come un vestito cucito addosso. In pratica è una specie di mummificazione, qualcosa del genere. Allora, si prendono 28 bende, 28 bende, anzi per l'esattezza le bende dentro all'ionizzatore devono essere 29 perché ce ne deve essere una di scorta. Prima però si prendono delle misure anche, lo vedo dalle immagini. Prima la cliente viene tutta misurata in 16 punti diversi del corpo e queste misure vengono naturalmente segnate. Alla fine del trattamento poi verranno riprese e si vedrà che c'è una riduzione proprio in centimetri. Grazie all'espulsione un po' di queste tossine, perché poi insomma le tossine sono anche accumulo di liquidi. Esatto, certo. Correggetemi se sbaglio perché non sono un'esperta con voi. Certo che sì. E tramite osmosi queste bende imbevute di sali minerali riescono in pratica a succhiare via. Bellissima questa cosa. Sì, proprio. Il sale fin dall'antichità insomma ha avuto questa proprietà, manteneva cari, quindi il sale ha questa proprietà naturale. Quindi mi viene da pensare che tutto questo trattamento è prettamente naturale. È naturalissimo, naturalissimo. I sali minerali sono tutti naturali, non c'è niente di chimico. Guardate che loro l'hanno provata tutto sul loro corpo. Esattissimamente sì. È vero? Perché si può consigliare ancora meglio quando si è provato personalmente. Sì, sì, sì. Non si può consigliare una cosa se uno non l'ha provata. Mitica. Sono d'accordo. Detto questo, quindi quanto dura questa seduta? Perché dopo essere bendata in questa spiace di mummia? Allora si sta in posa a 70 minuti. Capite voi che in quel momento uno dorme. Rilassantissimo, rilassantissimo. Uno dorme, viene coccolato, rimane lì proprio bello. Anche con una chisana qualche volta, immagino. Decisamente, volendosi. E poi insomma si sbende. Si sbenda e si riprende le misure. A parte che qualche volta non c'è nemmeno bisogno di riprendere le misure. Perché si vede subito. Perché sì, l'effetto è visivo, si vede subito. Quindi la pelle, mi passi la tua collega per cortesia. A Monica Guerrini, la fonte del benessere, qui andiamo a Monte San Savino, sempre in provincia di Arezzo. Quindi dopo io immagino una bella pelle, il fatto che una si senta meglio. Sì, senza dubbio. Cioè quello che riporta proprio nell'immediato la cliente è proprio questo stato di estremo benessere. E rilassamento, perché in 70 minuti di posa la cliente riesce veramente, se posso dirlo, a staccare il cervello. Sì, no, no, puoi dirlo. Perché è come una pila, no? Che si rigenera. Quindi è proprio quella la fase in cui la cliente trae beneficio sia fisico, proprio per questo effetto spugna. Voi insistete con queste donne, ma ci sono anche gli uomini? Ah, assolutamente, sì, o l'uomo, sì, o il cliente o la cliente, assolutamente. Perché da questo effetto spugna ne trae beneficio sia appunto il fisico, perché viene depurato, ma anche la nostra mente. Senti, visto che è un trattamento che si può fare tutto l'anno tranquillamente, però anche ritornando al discorso iniziale che si stabilisce quanti trattamenti fare in base all'età, però mi viene da pensare anche alla continuità, che ne so, dei richiami. Questo è importantissimo, a parte il fatto che le persone che si sottopongono al metodo non ne sentono proprio il bisogno, perché si consiglia sempre dopo 45-60 giorni di ripetere. Questo avviene una volta alla settimana, i 5 trattamenti o 4? No, una volta ogni due settimane. Ah, ecco, il trattamento una volta ogni due settimane. Sì, sì, perché essendo altamente depurativo, ha proprio un'azione forte, drenante, bisogna dare il tempo al nostro organismo di eliminare questi liquidi e tossine in eccesso. Insomma, ecco, voglio dire, c'è anche un'attenzione, non dico medica, però insomma un'attenzione... Assolutamente, i 15 giorni vanno rispettati. Quindi una volta ogni 15 giorni i trattamenti stabiliti, dopo di che in pratica si può... Sì, dopo di che si consiglia una volta ogni 45-60 giorni di ripetere la seduta, perché è un richiamo al ciclo intensivo, tra virgolette, che abbiamo fatto inizialmente. Però potrebbe essere anche un modo per dire, mi riprendo 72 minuti per staccare il cervello. Assolutamente, è questo che le clienti lo richiedono, perché ne sentono proprio il bisogno, perché è un momento estremamente piacevole. È un modo di volersi bene, di essere coccolate poi dalle professioniste come voi. Allora, io ringrazio questo gruppo così, diciamo, efficiente nel trattare bene, nel coccolare la propria clientela e vi ricordo il trattamento detossinante e riducente.